E' arrivato il momento della nostra voce della scienza e questa settimana noi abbiamo pensato di invitare un luminare della fisiatria il professor Walter Santilli che è docente di medicina fisica e riabilitativa all'università La Sapienza di Roma per parlare di un problema urgente e attuale, come è cambiato il nostro corpo con l'uso del cellulare. Intanto benvenuto professore, l'altro giorno il Corriere della Sera titolava così come è cambiato il nostro modo di camminare sempre con il cellulare in mano, fa male alla salute ci spiega quali sono i problemi fisici dall'andatura alla schiena, alle mani, oltre alla distrazione per gli smombi li chiamano, cioè gli zombie da smartphone. Allora il primo problema, così anche per alleggerire un po' il discorso è che se uno cammina con la testa flessa per guardare l'iPhone c'è il rischio che può sbattere da qualche parte. Io ho visto persone che vanno contro i pali della luce piuttosto che insegne pubblicitarie. Il pubblico annuisce, c'è un vociare sì e così, si va a sbattere e quello è il primo problema fisico. È il primo problema. Per non parlare, sempre più spesso vediamo persone che attraversano la strada guardando l'iPhone. Beh, questo probabilmente è un fattore di rischio grave perché non si riesce poi a vedere cosa arriva. Così chi usa le cuffie, perché io le sto usando per parlare con voi, ma le cuffie non ci consentono di sentire i rumori di automobili che arrivano. Ma oltre questo, che fa parte diciamo di una prevenzione degli infortuni, c'è il problema della tecnologia che sta instaurando nuove patologie che noi non conoscevamo. Cioè la flessione del capo che può durare un'ora, due ore, persone che stanno con questo cellulare in mano, con videogiochi, vuol dire una percezione del peso della testa che normalmente siamo sui 4,5-5 kg, si può arrivare come percezione fino a 60 kg. Mannaggia! Proprio perché la flessione continuativa del capo e quindi della cervicale sovraccarica le nostre ossa cervicali, ma anche i tendini, i muscoli, i legamenti. E da lì poi le patologie che si cronicizzano. Ecco, questo è una... I mani, i tendini, no no, però il peso, la cervicale, assolutamente... Cosa dobbiamo fare oltre a smettere di usare i cellulari per evitare questi problemi? Allora, il primo consiglio è di non permanere in queste posizioni obbligate per molto tempo. Quindi bisogna recuperare ciò che abbiamo in maniera scorretta, viziato. Cioè, se siamo stati molto in flessione ogni 10 minuti, dobbiamo provocare una iperestensione della cervicale e muovere anche il capo nelle rotazioni, sia destra che sinistra. Quindi recuperare i movimenti, diciamo, di rotazione e di flessione laterale, che adesso io mimo da una parte e dall'altra. Poi ci sono dei campanelli d'allarme. Se le nostre mani formicolano o si addormentano, ci può essere un interessamento dei nervi periferici. Quindi in quel caso la situazione diventa un pochino più impegnativa. Perché ci può essere un'ernia cervicale, un tunnel carpale. E poi una cosa che pochi dicono e pochi sanno, il tenere i gomiti per molto tempo sulla scrivania vuol dire che può essere compresso il nervo ulnare che passa in una doccia che si chiama epitrocleolegranica. Se c'è una compressione continuativa, noi abbiamo l'addormentamento, il formicolio del quarto e quinto dito. Se accade questo, mettiamo all'esterno della scrivania il nostro gomito oppure proteggiamolo con un... Grazie professore, preziosissimo, allarmante, ma è bene che iniziamo a fare i conti con i danni fisici che ci sono delle nuove tecnologie. Grazie al professor Santilli. Noi ci fermiamo un attimo, poi torniamo per la nostra buonanotte caschè. Tra pochissimo.